Il prezzo di PlayStation Plus su PS4 e PS5 potrebbe aumentare presto. Su PS3 era gratis, su PS4 gli abbonati hanno pagato 60€ per un abbonamento di 12 mesi. E, finora, questo non è cambiato con PS5, ma potrebbe cambiare nel prossimo futuro. In effetti, in Brasile i prezzi stanno già aumentando del 33%, anche se Sony afferma che questo è semplicemente per riflettere l'attuale situazione del mercato nel paese sudamericano. In altre parole, apparentemente non è indicativo di un aumento dei prezzi su tutta la linea. Enfasi su apparentemente. I prezzi di PlayStation Plus fluttuano in alcune parti del mondo in modo piuttosto regolare. Negli Stati Uniti e in molti altri paesi il prezzo è abbastanza stabile. Il Brasile rientra nel primo caso. Per ora, queste sono speculazioni. Non solo questo è il secondo aumento in due anni, ma la valuta del Brasile ha perso valore. Questo contesto suggerisce che si tratta solo di un aumento dei prezzi isolato. Dovremo solo aspettare e vedere. Se la notizia ti è piaciuta, lascia un like e un commento.